bella a tutti ragazzi con voi ruskygamer e oggi farò la quarta parte di base review intanto voglio ringraziare gli iscritti che sono diventati 38 se non sbaglio siete comunque tanti e non speravo proprio di arrivarci a 37 iscritti perché pensavo di non arrivarci e basta comunque ricordo anche che ho una pagina facebook e se avete delle domande o delle richieste da farmi magari non volete scrivere nei commenti o non potete scrivetemi sulla pagina il link lo lascio sempre in descrizione eccoci con un appetatore di clan illuminati che mi ha chiesto beh del mio clan mi ha chiesto di fargli una base review intanto ti direi di come prima cosa potenziarti le tesle occulte perché sono utili e a livello 1 non lo sono ma se gli potenzi diventano molto più utili poi fatti dove era le torri arcieri portali tutte all'otto e i cannoni per adesso ti direi di lasciarli stare dato che hai le tesle così basse al posto di farti i cannoni e delle torri arcieri prima fatti le tesle poi ti consiglierei di fare dopo le tesle ti consiglierei di fare le torri dell'arciere e poi i cannoni poi fatti se puoi potenziati gli estrattori e le miniere almeno che non sei in farm si scusa in scalata perché in scalata se hai tante risorse negli estrattori e nelle miniere ti attaccano giusto per quelli e quindi ci sta anche che ti fanno 50% quindi si ti consiglierei di seguire quella scaletta che ti ho detto prima poi di truppe ti direi di farti i draghi al 2 perché so che con un cp al 7 si possono fare al 2 poi le pozioni cura e pozioni furia al 2 e al 3 perché sono utili con la formazione di draghi che poi userai sicuramente in guerra poi sbloccati i domatori che anche quelli sono utili in guerra se non sbaglio con un cp al 7 si può fare e ecco cosa ho notato ora potenziati le caserme tutte al 9 perché i draghi dato che ti serviranno dovrai addestrarmi tanti per la guerra quindi ti toccherà aspettare troppo se c'hai una caserma sola al 9 e poi per finire le ultime cose se vuoi maxarti tutto la scaletta te l'avevo fatta quindi se non sai poi cosa fare dopo aver maxato tutte le difese seguendo quello che ti ho detto alla fine fatti le mura oppure prima le trappole e poi le mura tipo le bombe le bombe sono utili dovresti potenziare pure queste se ce l'hai a livello 1 poi ti saranno utili contro gli arcieri gli arcieri barbari e goblin magari perché quando farmano usano queste truppe qui quindi le bombe saranno fondamentali per difenderti da da questi tipi di attacchi eccoci con gli asso di clan illuminati il suo villaggio è messo bene tranne che forse le tesle perché le tesle come ho già detto anche a nano sono utilissime aumentandoli sempre di più acquistano il danno della torre dell'arciere forse anche superiore adesso non mi ricordo però le tesle occulte hanno tanto danno anche se hanno un raggio piccino sono comunque forti poi le mura direi adesso per adesso direi di lasciare di lasciar stare le mura perché non è che ci erano tanto invece ti direi di pensare agli estrattori e alle miniere potenziale al 10 all'11 qual è il massimo per l'unice più al 7 e potenzia tutte le caserme al 9 sempre per lo stesso motivo che se dovrai attaccare con i draghi in guerra ti toccherà aspettare una vita per poter attaccare dato che i draghi si adestrano mezz'ora all'1 dovrai aspettare troppo di truppe direi di farti i draghi al 2 e il re non so se con un cp o al 7 si possono fare arciere barbari al 5 mi sembra di no quindi lasciali stare se puoi potenziare se puoi potenziati i maghi e i domatori perché poi quelli sono utili per la guerra come ho già detto con i draghi quindi se vuoi una scaletta prima fate i draghi poi i maghi e i domatori oppure draghi i domatori e maghi e appena puoi fate il re al 5 perché con l'abilità diventa molto più forte e se puoi fate le pozioni cura e furia al 4 eccoci con shouter 57 di forze e onore il suo villaggio è buono però dovrei direi di potenziarti alla regina al 10 perché così almeno sblocchi subito il potere livello 2 è molto più utile poi le mura fattele all'8 almeno inizia a fartele all'8 perché saranno utilissime e se puoi le difese aeree e si magari anche le torri arciari che saranno utili poi non vedo le tue bombe né i tuoi nemmeno le tue tesle però se le hai livello basso potenziale perché pure quelle sono utilissime per il per la difesa dato che hanno tanto dato che hanno tanto tanto danno anche se l'aria è ristretta fanno comunque sono utilissime contro i govip con i pecca di truppe fatti i draghi al 4 perché saranno utili in guerra e i golem perché pure quelli saranno utilissimi in guerra i draghi saranno utilissimi in guerra per per i castelli in difesa così almeno si attaccano con una pozione con una pozione veleno non distruggono tutte le truppe del clan se doni non so magari le streghe o i maghi e poi fatti le pozioni terremoto perché ci sono diverse tecniche utilissime con con quella con quella pozione proprio ce ne sono vaste eccoci con black angel di illuminati il mio primo consiglio che ho subito da dare dopo essere entrato è fatti le mura non usarle se le hai livello 1 livello 2 livello 3 non le usare perché sono inutili e fanno come se fosse spazio vuoto praticamente basta non so anche 2-3 barbari per distruggerlo quindi ti sconsiglio di usarlo affinché non li potenzi al livello delle altre mura magari se le hai tutte a livello 6 se hai le mura queste appena costruite le metti a livello 5 puoi anche usarle poi al posto di questo depoisto del sir nero che stai costruendo ti consiglierei di metterci una difesa perché tanto il depoisto del sir nero se si sta ancora costruendo è inutile quindi puoi anche metterlo fuori al suo posto non so magari del clan oppure non so una difesa magari quella più forte che hai così almeno copri abbastanza poi fatti subito questa torre arciere e questo cannone potenziali tutti allo stesso livello e anche questa difesa aerea se hai passato da poco al municipio al 7 però vi sarà utilissimo cioè non so magari metti non so o non fare qualcosa che ti sembra meno utile di potenziamenti se hai oro fatti subito la difesa aerea e poi la torre arciere e poi con l'oro che ti resta non so magari facci le mura però ti consiglierei di potenziarti su per prima cosa le mura poi torre arciere cannone e il mortaio perché sono fondamentali nella difesa aerea poi con l'oro che ti resta non so fai un po' di tutto ma cerca di portare il prima possibile tutto allo stesso livello poi anche le miniere e gli estrattori portali al massimo e non so il resto sembra a posto ah si le caserme le caserme fattele al massimo perché le truppe che userai si addestrano prima quindi ci metti anche di meno cioè attacchi con più frequenza di truppe so che si è passato da poco al municipio al 7 però appena poi sbloccati i draghi e fatti gli arcieri e i barbari al al 4 oggi con robiclash di il club miglior il suo villaggio è abbastanza buono solo che dovresti farti prima questa difesa aerea perché portare a livello 4 come questa perché sarà utile contro i draghi contro le mongolfiere sgherri eccetera eccetera poi vedo se stai migliorando il mortaio va bene e appena poi fate i cannoni portali se non sbaglio per il municipio al 7 il livello massimo era all'8 insieme alle torri arciere potenziati soprattutto queste difese perché sono primarie fondamentali poi le mura direi che non fare questo dato che tutte le mura per ora li potenzi con oro fatti prima queste qui al 6 e poi quando ce le hai tutte al 6 magari fatti queste al 7 va bene ma non fare così che c'hai al 5 al 6 al 7 poi potenziti gli estrattori e le miniere fatti tutte le caserme al 9 per i draghi perché ci metti meno tempo ad estrarre i draghi per la guerra magari non lo so poi la torre stregone appena poi però direi anche che puoi metterla per l'ultima perché per adesso hai le cose più importanti a cui pensare tipo i cannoni le torre arciere questa difesa aerea poi non so se i mortai il livello massimo per il municipio al 7 sono al 4 se poi fatele al 5 e poi no stai passando al municipio all'8 troppo presto proprio te lo sconsiglio fortemente perché ti troverai in difficoltà dato che al municipio all'8 sono tutti abbastanza forti per per un villaggio come il tuo non so magari con le morgofiere del draghi ti fanno abbastanza danno quindi si ormai passa al municipio all'8 però prima di andare al municipio al 9 fatti tutto al massimo perché va bene nel municipio 8 non è che cambia tanto ma con il municipio al 9 ti ti arano brutalmente sono veramente forti quelli lì perché usano le tecniche diverse hanno truppe più forti e magari sarai sfortunato se al 52 si è un municipio al 9 e si un municipio 8 troverai gente sia un municipio 7 8 e il 9 se trovi uno al 9 che è tutto maxato con soli arcieri barbari potrebbe anche raderti magari anche qualche gigante quindi ti sconsiglio fortemente di passare di municipio adesso di truppe sempre messo bene intanto fatti il re barbaro gli arcieri barbari dato che ora passa l'unicipio all'otto e fatti i draghi perché sono utili per guerra anche per difesa fatti non so i domatori potenziateli perché pure quelli sono utili per l'unicipio 7 e 8 mi sembri per il resto sempre messo bene si fate anche le pozioni cura bene ragazzi spero che questo video vi sia stato utile che accettiate i miei consigli e che soprattutto migliorate diventate più forti vi ringrazio del vostro tempo della collaborazione se volete se avete da dire qualcosa non so magari darmi dei consigli scrivetemi o nei commenti o nella mia pagina facebook aperto da poco il link lo lascio nella descrizione bella a tutti ragazzi alla prossima